Buonasera per ritrovare all'appuntamento con Il Fatto. Proseguono i nostri appuntamenti di avvicinamento alla sfida per le regionali che in Abruzzo si terranno nel prossimo mese di marzo, quasi certamente. Incontriamo i vari presidenti dei gruppi consigliari, incontreremo anche i candidati governatori in questo primo round della ripresa anche della politica, qui dopo la pausa estiva, sulle frequenze di Rete 8. Salutiamo e ringraziamo il capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera anche a tutti gli ospiti a casa. Allora, ieri il cartello, la coalizione tra partiti e movimenti che animerà la battaglia contro Marco Marsiglio ha sciolto le riserve e ha individuato in Luciano D'Amico il candidato presidente per l'Abruzzo. Intanto vogliamo riepilogare come si è arrivati a questa candidatura e soprattutto il percorso che ha portato alla costituzione di una coalizione che è un caso abbastanza raro, insomma è una fase abbastanza frizzante della vita politica in Italia. Legato alla responsabilità, a quella che è la gestione attuale del presidente Marsiglio, di questa destra che arriva in Abruzzo e governa l'Abruzzo in maniera, secondo noi, completamente scomposta. Un candidato presidente da Roma, un console romano che arriva nella nostra regione e invece di preoccuparsi di migliorare le stanze degli abruzzesi, dove è evidente l'assenza di programmazioni in tutte le realtà, partendo dalla sanità pubblica, sociale e trasporti, ha pensato, e forse è l'unico punto del suo programma che gli è ben riuscito, di colonizzare i nostri territori mettendo le bandierine del suo partito di Fratelli d'Italia e lo possiamo vedere anche in quello che è successo negli ultimi anni. Vorrei ricordare a tutti che il partito maggiormente rappresentativo per le elezioni del 2019 è stata la Lega. Oggi la Lega è stata totalmente fagocitata all'interno di quella che è la maggioranza, all'interno di quello che è il partito del governatore Marsiglio, all'interno di una realtà che vorrebbe far credere agli abruzzesi che le responsabilità non sono in capo al presidente di regione e agli assessori, ma bensì a una Lega che molto probabilmente pagherà il duro colpo le prossime elezioni regionali perdendo tantissimo appeal sui nostri territori con risultati anche molto bassi, ma non basta cambiarsi la giacca per dire che non si è più quelli di prima. Abbiamo riscontrato questa realtà e questa realtà ci ha permesso effettivamente di lavorare insieme, insieme anche agli altri colleghi delle opposizioni, tracciando e dando un'identità a quelle che erano le criticità e le esigenze agli abruzzesi. Questo è stato il punto di partenza, maturato nell'ultimo periodo, maturato negli ultimi mesi, maturato soprattutto nell'ultime settimane, un appello di responsabilità a tutte le forze politiche con identità diverse che ci vedono sicuramente uniti con un unico intento. Far tornare a Roma il caro presidente Marsiglio perché pensiamo tutti che il suo lavoro possa finire qui. Il profilo della candidatura di Luciano D'Amico? Il profilo di Luciano D'Amico ha un curriculum sicuramente di spessore, ha un'esperienza maturata negli anni sia come economista che come professore universitario, essenzialmente un civico, indipendentemente da quello che si vuole raccontare. Non ha una tessera di partito in tasca e secondo noi è la migliore espressione che poteva venire fuori tra i nomi che erano arrivati sul tavolo. Perché ha dimostrato, anche nel discorso che ha fatto ieri, di essere collante all'interno di quello che è un percorso tracciato, fatto di contenuti, fatto di stanze, fatto di esigenze, un Abruzzo che ha la necessità sicuramente di innovazione, un Abruzzo che ha la necessità di accogliere le stanze, di non staccarsi da quelle che sono le problematiche dei cittadini ma bensì di risolverle. Vede, identità diverse, partiti diversi. Magari questa volta il nostro caro console romano pensava di trovare ancora una frattura all'interno di quella che è la campagna elettorale che partirà a breve per le politiche 24-29. Ma è stato proprio il suo modo di adoperarsi all'interno dei nostri territori che ha tirato fuori quell'orgoglio di noi abruzzesi che sentiamo insieme la necessità di far diventare ancora una volta questa regione un'iregione importante per l'Italia, per il centro Italia e soprattutto per gli abruzzesi. Ecco, la stessa domanda che ho fatto ieri a Silvio Paolucci, per un momento c'è stato anche il suo nome sul tavolo delle possibili ipotesi di candidatura. Lei come ha vissuto anche il partito soprattutto, il Movimento 5 Stelle, come ha vissuto questa fase anche di generosità nei confronti degli alleati per poi fare tutti un passo indietro ed arrivare a una candidatura di sintesi? A questo traccio in maniera importante quelle che sono le differenze tra noi e l'attuale maggioranza. La nostra disponibilità a fare un passo di lato è stata fatta per quelli che sono i temi, per quelle che sono le istanze, per quelli che sono gli argomenti. La responsabilità non è legata alla poltrona, una poltrona che è tutta incardinata in questa maggioranza di centrodestra. Io vorrei ricordare a tutti che i vari balselli che ci sono all'interno dei partiti già disegnano una futura giunta di assessori, di persone e si parla sempre solo di ruoli. Allora la maturità sta proprio nel fatto di non voler parlare di poltroni di ruoli, ma di continuare a mantenere fermo il punto su uno strumento che sarà l'unico strumento di condivisione tra anime diverse e tra partiti diversi. È un patto siglato tra gentili uomini per l'Abruzzo in cui il dottor D'Amico, il professor D'Amico sarà il notaio e certificherà passo dopo basso quelli che saranno gli elementi più forti, quelli che effettivamente fino ad oggi non sono stati trattati per un Abruzzo nuovo, per un Abruzzo diverso, per un Abruzzo che ha bisogno di persone responsabili e mature che affrontino la loro quotidianità. A proposito di poltrone, ma io non parlerei di poltrone, di mandato elettivo a questo punto è chiaro c'è un problema, c'è un tema più che un problema che riguarda sempre noi dei media nella lettura delle vicende del Movimento 5 Stelle che è il tema della non ricandidabilità per il terzo mandato. Quanto ha condizionato anche il suo gruppo consigliare questa regola? Lei la ritiene ancora una risorsa o un freno anche per avere una continuità di classe dirigente? Mi riferisco ovviamente anche alle vicende che vi hanno interessato su questo territorio. Bisogna fare un ragionamento ad ampio respiro. chi ha in pancia i due mandati ha una scadenza come lo yogurt. A un certo punto sai che finisci il tuo percorso politico per quello che riguarda l'essere rappresentativi nell'interno delle istituzioni, ma non significa smettere di fare politica. Certo, spesso ho preso... O cambiare partito? Ma guardi, naturalmente per cambiare partito nei partiti attuali chi è del Movimento 5 Stelle difficilmente si riconosce. La nostra identità, la nostra anima parte dai territori. Siamo andati avanti in questi anni con un'idea diversa per quello che erano le esigenze in quel periodo che immaturano per responsabilità politica. Una cosa sicuramente mi dispiace. Mi dispiace, naturalmente, perdere all'interno delle istituzioni quelle professionalità maturate negli anni. Lei immagini un sottosegretario che competenze ha o un presidente di vigilanza o un vicepresidente del Consiglio. Però al tempo stesso sono convinto che è un elemento, è un valore aggiuntivo quando sai che a breve torni a casa. E quindi tutte le tue energie, tutta la tua voglia di fare politica, tutta la tua voglia di trovare soluzioni perché tornerai in quel mondo dove tu hai governato, dove tu sei stato legislatore, ti permettono di non risparmiarti mai, nemmeno un minuto, nell'arco di una giornata. E questa cosa è importante. Nel futuro vedremo se poi ci possono essere idee o indirizzi diversi, ma noi siamo partiti con un sogno che è quello naturalmente sempre di cambiare culturalmente quelli che sono gli eventi, di avere davanti a noi una società di diritto, una società di diritto, una società di uguaglianza, di ridurre quelle che sono le distanze sociali, di migliorare l'ambiente, di una sanità pubblica, un diritto alla salute per tutti. Questo è il nostro DNA. Questa è la nostra chiamata dei nostri sostenitori a raffare politica. Cerchiamo di farla bene e la facciamo tutti i giorni nella nostra quotidianità. Questa domanda preludeva in realtà l'attività del gruppo del Movimento 5 Stelle in questi cinque anni di consigliatura, di legislatura, a Palazzo dell'emiciclo, nonostante alcune vicissitudini, alcune defezioni appunto legate proprio a questa logica di cui parlavamo. Ecco, lei è soddisfatto di quanto si è portato a casa sia in termini di opposizione alla maggioranza di centrodestra al Presidente Marsilio, ma anche in termini di proposizione, di disegni di legge, di vostre proposte che poi sono andate in porto e che sono state anche condivise da altri. Sono soddisfatto per alcuni progetti di legge che sono diventati legge e portano il mio nome e il nome dei miei colleghi. che hanno tracciato la nostra identità per quello che riguarda il turismo, l'ambiente, la sanità. Abbiamo fatto cose naturalmente che lasciano il segno. Ad esempio io sono il primo firmatario di una legge sulle comunità energetiche. Il problema è che avere una legge vuota e non perseguibile perché è una maggioranza che non ci crede, non alimenta le comunità energetiche che servivano a ridurre e servono ancora oggi a ridurre il caro energia, servono l'ambiente, l'impatto, il CO2, la salute dei cittadini. L'aumento progressivo in questi mesi, in questi ultimi periodi di patologie oncologiche che sicuramente possono essere ricondotte a quella che è la qualità della vita dei cittadini abruzzesi, quell'autonomia che ci permette e ci dà un'identità anche all'interno dei territori. C'è una visione nelle nostre oposte di legge. Molte hanno trovato spazio, peccato che non abbiano trovato coperture. Perché magari per qualcuno è stato molto più semplice accontentare un sindaco, accontentare un comune, spazionando in maniera, noi per definizione spesso parliamo anche in maniera non molto, come dire, responsabile, marchette, marchettificio, soldi a pioggia. Ecco, io su questo aggiungerei un elemento in più. Se manca la programmazione sei costretto a rincorrere l'emergenza e quindi a non riuscire poi a dare, effettivamente, a distribuire risorse per quelle che sono esigenze dei territori. Allora manca la programmazione e la programmazione è stata completamente assente all'interno di questa maggioranza perché, come l'ho detto all'inizio, c'era soltanto un'idea, un'idea del Presidente, un punto del Presidente che era quello di far diventare l'Abruzzo una roccaforte di Fratelli d'Italia. E noi, davanti a questo, non ci fermiamo. Taglieri, un anno fa i risultati anche in Abruzzo delle politiche, esattamente un anno fa hanno disegnato un quadro di netta prevalenza del centrodestra. Lei pensa che l'aria sia cambiata durante questi 12 mesi e possa ulteriormente cambiare nei prossimi sei che vi attendono di campagna elettorale? Cioè c'è una percezione di svolta, c'è una percezione, ascoltando l'umore degli abruzzesi, che la sfida possa essere vittoriosa nel mese di marzo per voi. Lei sa benissimo per esperienza e per questi anni in cui naturalmente si è occupato di questo tema che a livello nazionale spesso si condizionano le sorti di quelle che sono i voti all'interno delle regioni. Io vorrei ringraziare pubblicamente il Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, che ci sta aiutando tanto in questi ultimi mesi, ha avuto la grande capacità di smentire ogni proposta portata avanti a livello nazionale. E la stessa che si fermava a fare benzina, che gridava che con 50 euro, 15 andavano al benzinaio e 35 con quelle favolette o quel modo facile che arriva alla pancia dei cittadini andavano allo Stato. Oggi è lei lo Stato e la benzina e il gasolio superano i 2 euro e i 2,20 euro. Ci dovrebbe raccontare o ci raccontava che il problema dell'immigrazione veniva regolamentato dal blocco navale. Io negli ultimi mesi ho visto il raddoppiarsi di queste problematiche. A livello sociale ha distrutto degli elementi fondamentali e hanno inventato una super favoletta di numeri che è stata smentita in un question time di qualche giorno fa da un nostro deputato alla Camera nei confronti di Giorgetti che si era fatto venire in mal di pancia per il 110. Anche lì significa non avere una visione. Siamo stati responsabili di aver distrutto i fondi e le casse dello Stato. Non si può sentire. Sono stati smentiti da Confindustria, uno strumento che porta un prodotto interno nordo nel settore a favore delle imprese dell'11% che crea circa un milione di posti di lavoro e che per di più fa rinascere un settore che per 20 anni era morto considerando il valore aggiunto delle maggiori entrate delle persone che pagano le tasse perché lavorano e poi in campagna elettorale dici questa proposta va sviluppata perché buona. Io vorrei ricordare a tutti che Giorgetti oggi è il ministro dell'economia e finanze ma prima era un ministro del sviluppo economico. Quindi io non so Giorgetti quando era ministro del sviluppo economico nel governo Draghi quali conti ha letto e oggi quali conti sta leggendo. Però sul reddito di cittadinanza avevano promesso che l'avrebbero tolto e così hanno fatto. Beh sì infatti ma hanno promesso che avevano tolto il reddito di cittadinanza che non è mai stato compreso perché anche quello è uno strumento welfare un strumento importante per le persone. Lei immagina una persona di 55 anni che all'improvviso per una azienda qualunque che si trasferisce all'estero si trova senza lavoro, ha una famiglia a casa, ha dei figli. La chiave di lettura del reddito di cittadinanza era in queste cose. Cioè dare la possibilità a chi non aveva nessuno strumento di supporto di poter tornare a casa con la dignità di un uomo, di un padre di famiglia che davanti ai propri figli non è costretto praticamente a trovare soluzioni forse non legali per i diritti di questo paese era uno strumento che permetteva alle stesse persone in quei periodi di cercare la strada attraverso il lavoro, attraverso il futuro. Andava sicuramente migliorato perché poi il problema non era il reddito di cittadinanza è che qualche volta noi diamo un'interpretazione tutta nostra forse la fantasia, la bontà del popolo italiano che prende il reddito e fa un altro lavoro o che ha naturalmente delle dichiarazioni importanti proprietà importanti e chiede il reddito andava sicuramente migliorato ma non è perché un negoziante non fa uno scontrino tutti i negozianti sono delinquenti e non è perché abbiamo qualche furbetto all'interno di quello che è un provvedimento tutti gli italiani sono delinquenti bisogna migliorare sensibilmente quello che è lo strumento ed era uno strumento importante oggi con la carta sociale penso che non si possono permettere neanche di portare un pezzo di pane sul tavolo di casa ed è una vergogna Gli ultimi 30 secondi perché la domanda l'avevo fatta prima adesso dobbiamo arrivare a una risposta attraverso il ragionamento si può vincere in Abruzzo? Si può vincere in Abruzzo se riusciamo a comunicare in maniera importante agli abruzzesi cosa vogliamo fare per il 2024 e il 2029 in questa modalità abbiamo sicuramente identità diverse che possono essere un valore aggiunto per i temi, per i programmi e sono convinto che col dottor D'Amico questo insieme di ingredienti porterà a un grande risultato sia per gli abruzzesi e sia per tutte le persone che in questo periodo non si sono riconosciute nel governo Marsiglio e naturalmente in tutte quelle che sono le non governance di questa maggioranza Bene, io ringrazio Francesco Taglieri per aver raccolto il nostro invito e i nostri telespettatori per averci seguiti appuntamento alle prossime occasioni con Il Fatto Arrivederci